La capolista Sissio Team affronta il padalino di coda Valsesia nella quarta giornata del girone sud-ovest della Coppa Primavera di Calcio a 7 over 35. Arbitra il signor De Rosa di Milano. Partono meglio i neroverdi di Valsesia. Nei primi cinque minuti buon possesso palla e prima occasione verso la porta ad opera di Bardella. Sissio Team prova a ricamare il gioco del limite dell'area con l'invenzione in profondità per Milano, ma vai estrepitoso in chiusura. Nulla può però la difesa di Valsesia quando all'ottavo Ricchizzi spacca la porta con il bolide che sblocca il match. Prima dello scadere del primo tempo, Fini da una parte non impenserisce Sassi, dall'altra parte invece Milano è decisamente più pericoloso, ma anche qui il portiere è attento. Ad inizio ripresa continua il grande equilibrio con occasioni da una parte e dall'altra. In apertura Cabassi fa partire una sassata, ma Sassi ovviamente respinge. Dall'altra parte Ricchizzi cerca il secondo palo e esalta la plasticità di Centuori. Arriva così il meritato pareggio per Valsesia a metà ripresa. Sassi e Totola regalano di fatto la sfera ai loro avversari, che dopo un batti e ribatti in aria trovano la rete con Scarlatti. C'è ancora il tempo per entrambe le squadre di sfiorare la rete del vantaggio. Sissio Team ci va vicino con Milano, mentre Schillace inzuccare fuori l'occasione per Valsesia. Passo falso per Sissio Team che impatta così contro un coraggioso Valsesia. Eccoci qua in compagnia di Davide Scarlatti di Valsesia. È una partita molto combattuta, voi siete partiti in svantaggio, però con determinazione siete tornati in partita, l'avete ripresa. Per la fine è finita una 1, forse l'usato più giusto. Se diciamo che questa volta i cambi ci hanno aiutato, eravamo in 11 quindi cambiare ripetutamente e dare cambi a quelli che non ce la facevano più stavolta è servito. Infatti siamo venuti un po' fuori alla distanza, nonostante giocassero tosto questi qua. Sotto il 9 complimenti, veramente bravo. È un punto che comunque vi dà fiducia e forse la cosa bella della vostra squadra è il crederci sempre fino alla fine. Ma è stato un anno travagliato quest'anno perché abbiamo fatto un girone invernale, diciamo, veramente con un rollino di marcia da, non da retrocessione, siamo più che retrocessi. Inspiegabilmente invece siamo in finale di Coppa, quindi siamo una squadra che dà spettacoli in un senso o nell'altro. Perfetto, grazie mille e un bacchalupo per le prossime. Grazie.